Domenica 1 ottobre ad Alcamo, nel precedente servizio video avete già notato purtroppo l'abbandono di un materasso in un importante incrocio della città. Adesso ci spostiamo in pieno centro storico, più precisamente, proprio vicino al corso stretto, in piazza Papa Giovanni XXIII, dove troviamo gli uffici centrali delle poste italiane. Gli uffici di poste italiane, che sono, come ben sapete, molti voi utenti, sono molto frequentate, c'è un grande afflusso di pubblico durante la settimana. E qui ancora troviamo questa attigua fontana, che è tuttora non funzionante, praticamente lasciata abbandonata a se stessa, quindi diventa non soltanto stagnante l'acqua al suo interno, ma è anche un ricettacolo di rifiuti di svariate tipologie. Una situazione di abbandono che certamente non si sposa con l'attuale iniziativa, che anche qui ad Alcamo si sta mettendo in atto, che è quella delle vie dei tesori, il circuito organizzato per promuovere il turismo nel territorio siciliano. Certamente è una condizione questa inaccettabile, dal momento in cui si parla tanto di promuovere il turismo nel territorio, ma basterebbe probabilmente poco per almeno ripulire, svuotare questa fontana tuttora non funzionante. Qui siamo a pochissimi passi anche dal Castello dei Conti di Modica e da importanti chiese che sono inserite nel circuito le vie dei tesori. Tra l'altro anche Poste Italiane appoggia questa iniziativa che è appunto denominata le vie dei tesori. Non comprendiamo quale sia il motivo di questo perdurante stato di abbandono, di degrado, di sporcizia, che per colpa certamente di incivili, ma anche per responsabilità, purtroppo dobbiamo dirlo, di chi dovrebbe vigilare su queste situazioni e anche cercare di garantire i servizi di manutenzione e di pulizia, perdura anche qui nel cuore del centro storico, quindi una situazione per la quale non possiamo rimanere indifferenti.